Con le festività natalizie l'azione di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine è stata intensificata. In particolare la Polizia di Stato, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta un ventottenne per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato fermato durante un normale controllo degli agenti mentre si trovava a bordo della propria auto insieme ad altre due persone. A seguito della perquisizione del mezzo, all'interno di una borsa nascosta sotto il cambio dell'auto, i poliziotti hanno sequestrato un coltello a serramanico. Così è scattata la denuncia per l'uomo che ora dovrà rispondere di porto di armi o d'oggetti atti ad offendere.